beccatevelo spaventoso abbiamo appena fatto il test guarda i palloncini ovunque che strutture che strutture ormai sei in tutti i videoblog è tu? mi piace, ah stai sono in pacanza con te questa qui è la nostra prof beh non lo so, dipende madrelingua, si penso proprio se lei ve il problema è che noi non capiamo cosa dice lei lei non capisce cosa diciamo noi se qualcuno sa che cos'è un rank ecco giusto, se qualcuno sa che cos'è un rank r a n k no, non c'era anche una c in mezzo no, non c'era nessuna c